partiranno in questi giorni i nuovi corsi di formazione a distanza organizzati da samaform i corsi sono completamente gratuiti e alcuni sono anche retribuiti le lezioni si svolgeranno completamente in fad formazione a distanza tre corsi in partenza ci saranno lingua inglese e cdl assistenza all'infanzia e tanti altri ma intanto scopriamo qualcosa in più sull'ente di formazione professionale samaform la samaform è un ente di formazione professionale accreditata anche ai servizi per il lavoro che opera da ormai diversi anni sul territorio tarantino abbraccia infatti tutti i paesi della provincia di taranto in particolar modo negli ultimi anni si è specializzata tantissimo con i corsi di garanzia giovani dando quindi la possibilità a tantissimi ragazzi che purtroppo al momento non hanno un'occupazione lavorativa o comunque un percorso formativo ben definito di avviarsi appunto con dei corsi di formazione per poter accedere ovviamente è necessario seguire tutto un iter burocratico che però noi i nostri operatori seguono dall'inizio alla fine inoltre la novità è che da giugno i ragazzi non vanno più ai centri per l'impiego per determinati step ma possono svolgere tutto comodamente qui da noi in più riconosciamo ai ragazzi anche un indennità orari ovviamente sui corsi è per tutti coloro che magari non dispongono momentaneamente di supporti informatici per poter seguire correttamente le lezioni in alternativa abbiamo anche la possibilità di fornire i tablet quindi veramente andiamo incontro alle esigenze di tutti al massimo delle nostre potenzialità la richiesta è alta noi cerchiamo di fare sempre ovviamente il massimo e di diversificare l'offerta formativa in base alle richieste l'offerta 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 l'offerta